Un'incontrollabile gelosia e il sospetto che la collega del marito potesse interferire nella sua vita matrimoniale sono stati motivi che hanno portato una 32enne di Ponte Amoriano alla denuncia per ingiurie, minacce e lesioni personali. La donna, precedentemente, aveva più volte avvicinato la presunta rivale, rivolgendo le offese e invitandola in malo modo a lasciare stare il suo uomo, ma un ennesimo irrefrenabile impulso l'ha portata ad attendere la ragazza sotto la sua abitazione in località Sant'Anna, dove questa è arrivata in compagnia della madre. Alla richiesta avanzata dalla moglie gelosa di rimanere sole per chiarire definitivamente i sospetti che si sono poi rivelati del tutto infondati, la signora, stanca di sentire accusare la figlia di essere una rovina famiglie, ha rifiutato fermamente di andarsene. La furia della 32enne si è così riversata verso la madre della ragazza, ripetutamente colpita con calci, che le sono costati sette giorni di prognosi per lesioni agli arti inferiori alla testa. Una querela e le successive indagini hanno permesso alla squadra mobile di accertare i fatti e di denunciare a piede libero la focosa sposa.